Buongiorno a tutti, oggi è una giornata utile a fare il punto del lavoro che stiamo svolgendo in un settore delicatissimo come quello dei trasporti, io mi sono permesso di estendere l'invito alla conferenza stampa di oggi anche alle organizzazioni sindacali, che vedo presente e che saluto, agli uffici della regione, di EAV, di ANM, perché in questi mesi, soprattutto per quanto riguarda il tema legato a CTP, abbiamo fatto un lavoro costante che ci ha visto impegnato veramente notte e giorno, dal punto di vista proprio di merito amministrativo, dopo spenderò due parole nel dettaglio. Vorrei citare giusto due cose che possono poi essere nello sviluppo dell'incontro, il Presidente sarà più preciso, è proprio di ieri o forse dell'altro ieri, di qualche giorno fa, un report del Ministero dei Trasporti che indica come la regione Campania sia la regione che ha la più bassa età media degli autobus destinati al TPL. 9,1 anni a fronte di una media nazionale di circa 10, credo che sia un risultato eccezionale da intestare solo ed esclusivamente al lavoro che ha fatto il Presidente, questa Giunta e ovviamente tutti noi che abbiamo lavorato nel settore. Abbiamo consegnato quasi 800 autobus nuovi che hanno consentito diciamo uno svecchiamento importante, abbiamo un programma ovviamente in continua evoluzione, stiamo facendo un lavoro eccezionale, però se a livello nazionale siamo riusciti ad utilizzare meglio e prima degli altri fondi che hanno portato ad avere questo dato, ripeto, è un monitoraggio fatto dal Ministero dell'Ambiente che ovviamente ricalca poi anche il Ministero delle Infrastrutture, che poi ricalca anche il tema dell'inquinamento perché ovviamente più nuovi significa meno inquinanti, tutti Euro 6, poi in futuro siamo pronti ad acquistare i mezzi che hanno le nuove tecnologie di carburante, quindi idrogeno, elettrico, poi avremo modo di raccontare quindi questo è un elemento. Un altro elemento è il tema legato alla grande riorganizzazione societaria che è stata messa in campo qualche anno fa, questo grande progetto di fusione e di riorganizzazione per realizzare una grande azienda unica del trasporto articolata in più società. Il primo progetto, diciamo, quello più rilevante è quello destinato ovviamente alla gomma proprio perché ci sarà un progetto di fusione di accorpamento con tutta una riorganizzazione societaria nelle holding. Purtroppo questo progetto sta subendo qualche leggero ritardo perché potete ben immaginare che la crisi del trasporto, la crisi dei ricavi da traffico, quindi tutto quello che è accaduto a caso della pandemia ha fatto sì che i bilanci delle nostre aziende sono diventati in sofferenza dopo essere stati dei bilanci in assoluta positività e se non era stato fatto quel lavoro sui debiti veramente oggi abbiamo avuto dei rischi seri per le aziende di trasporto e quindi i numeri che dobbiamo far quadrare per fare queste operazioni sono ovviamente un pochino più complessi ma io credo che già nell'arco di quest'anno completeremo le prime due attività societarie per andare poi verso questo futuro che è quella di organizzare in Campania un modello sullo stile del gruppo Ferrovie, quindi con un'azienda holding generale e delle aziende che si occupano di servizi su ferro, su gomma e poi la proprietà della rete che è quello su cui stiamo facendo tantissimi investimenti e anche su questo avremo modo e tempo di parlarne. Prima di lasciare la parola agli altri volevo fare un passaggio su questa situazione della crisi di CTP, come sapete l'azienda negli ultimi giorni è fallita ma i servizi sono fermi da dicembre del 2021, i dipendenti non prendono lo stipendio da dicembre nel senso che dicembre credo sia l'ultimo che è stato pagato con grandissimo ritardo, quindi c'è una crisi sociale importantissima, ci sono 500 famiglie che non ricevono il loro stipendio da oltre tre mesi, abbiamo un servizio fermo per tutte le comunità della provincia di Caserta e dell'area napoletana che erano servite, devo dire che questo come dire registra qualche contraccolpo in meno ma solo perché l'ex CTP di fatti i servizi non è che li svolgeva in maniera molto molto compiuta, per cui come dire le comunità erano poco abituate a non avere il servizio, ma resta comunque un tema perché noi avevamo un'azienda che aveva dei contratti di servizio con la regione della città metropolitana che non svolgeva il proprio servizio già da qualche anno, tutto questo ha portato alle crisi che conosciamo, io non mi addentro nelle polemiche e nelle riflessioni che leggo fare dagli statisti del trasporto anche recentemente, però io ci terrei a prendere atto e a commentare insieme quello che è accaduto, c'è un'azienda che è fallita e non è fallita per colpa di nessuno perché si sta anche tra le righe individuando chissà quale gestore di questo fallimento, ma è fallita perché è un'azienda che forse ha 100 milioni di euro di debiti e di fatto negli ultimi due o tre anni oltre a fare un servizio men che scadente ha accumulato debiti con i fornitori e è riuscita sì e no a pagare gli stipendi e in qualche periodo anche per più mesi non è riuscito a pagare neanche gli stipendi perché gli enti pubblici sono dovuti intervenire per fare un supporto ai dipendenti e poter pagare direttamente la città metropolitana e la regione campania, quindi questo era il dato di fatto, un servizio che non veniva svolto, debiti che maturavano e si riusciva sì e no a mantenere con le spille il pagamento degli stipendi, questi sono i motivi per cui il CTP fallisce e ovviamente ci dispiace, un'azienda storica ha 140 anni di storia, però i dati sono questi, noi ci siamo trovati nel 2021 ad avere un servizio per la provincia di Caserta che era quello sotto contratto per la regione campania, quindi cito solo questo perché è quello che ci compete, che è passato dal 60% al 10% alla fine dell'anno, quindi per un contratto che valeva 100 km ne venivano effettuati 10. Ora se a questi elementi qualcuno un po' speculativamente fa la domanda ma perché avete rescisso il contratto? La mia domanda è meno male che non l'abbiamo rescisso prima, siamo arrivati fino a dicembre perché noi abbiamo continuato con grande equilibrio istituzionale ad evitare di fare delle azioni troppo forti in un momento un po' particolare, quindi la pandemia e ovviamente le crisi che si generano, ma in realtà chi mi conosce sa che io faccio pochissime polemiche politiche perché cerco sempre di essere molto concreto, quello che è successo negli ultimi, e lo so per questo oggi lo faccio, quello che è successo negli ultimi, e poi Presidente se le facciamo tutti e due non ci riusciamo, quindi io cerco di contenermi, quello che è successo per CTP è solo causa di una gestione negli ultimi 10 anni assolutamente fallimentare, perché nel corso di questi anni io personalmente mi sono trovato più volte a discutere con i tecnici della città metropolitana a cercare soluzioni sul CTP e normalmente convergevamo sulle scelte, quindi erano soluzioni di piano A, piano B, destiniamo una parte dei servizi a qualche altra azienda che è in condizione di farlo, salviamo, guardiamo i dipendenti, abbiamo sempre trovato delle ottime soluzioni, poi quando si doveva passare alla scelta politica c'era un diniego perché non si voleva mai convergere a una soluzione che potesse vedere un ruolo della Regione Campania e tutto questo ha portato al fallimento perché probabilmente se fossimo intervenuti qualche mese fa avremmo riuscito quantomeno a contenere il danno e non arrivare a quello che è successo, 4 mesi senza servizi e 4 mesi senza stipendio, questo è il dato realistico. Io concludo, lascio la parola ad Umberto solamente ripetendo quello che ho detto prima, quello che siamo riusciti a fare e che riusciremo a fare facendo ripartire i servizi della città metropolitana, scusate, dell'ex CTP il 2 maggio, salvo imprevisti, l'abbiamo fatto solamente perché veramente i dipendenti e i dirigenti di EAV e di AIR che sono le due aziende che prenderanno la gestione del servizio per la città metropolitana e per la provincia di Casella e i dirigenti della Direzione Mobilità della Regione Campania e di ACMIR hanno lavorato veramente un mese senza sosta perché abbiamo dovuto superare tutte le difficoltà più impossibili dal recupero di autobus non pagati ancora nei depositi di CTP, all'accordo con i sindacati che ripeto ci siamo confrontati e scontrati e lo continueremo a fare ma alla fine abbiamo trovato una soluzione a capire come far assumere queste persone, a capire come distribuirle, a capire come riqualificare le figure ovviamente che subentrano in un'azienda già strutturata e che devono occupare un altro spazio, veramente ci sono una decina di persone, 10-15 persone che hanno lavorato su ogni singolo atto, su ogni singolo confronto, spesso stressati dalla Prefettura che riceveva delle sollecitazioni ovviamente per il momento storico e sociale molto particolare, quindi veramente abbiamo tenuto la barra dritta, stiamo andando avanti, mancano ancora una decina di giorni di cose da fare che non sono poche, pensate semplicemente che dobbiamo far fare 150-200 visite mediche nel periodo tra Pasqua, il Ponte, il primo maggio, il 25, quindi voglio dire che stiamo veramente stressando tutti quelli che dobbiamo assessare e salvo imprevisti, seppur con una crescita, come dire, mese dopo mese, noi partiremo il 2 maggio e confidiamo che per la ripresa delle scuole saremo già un 50-60% del servizio garantito e arriveremo già l'anno prossimo ad appuntare, non dico al 100% perché il 100% nel servizio è sempre una cosa teorica, ma se supereremo l'85 e il 90 sarà veramente un successo di tutti. Finisco con l'ultimo dato, perché mi è sfuggito prima, per effettuare il servizio di CTP servono circa 200 autobus, gli autobus che funzionano nei depositi di CTP, per noi sono 45, probabilmente non sono 45, sono 50, sono 60, quindi resta il tema che sono 5 anni che il CTP non ha 140 autobus per fare il servizio, quindi voglio dire che qualcuno questo problema lo poteva far emergere anche in un momento diverso, perché se servono 200 autobus e tu ce n'hai 50-60 che camminano, c'è qualcosa che non va nell'organizzazione del tuo servizio, ma perché questa azienda è andata avanti semplicemente per fare quel minimo per pagare gli stimenti ai lavoratori e qualche volta non ci riusciva nemmeno. Ovviamente avremo una storia di 4-5 anni delle cose che abbiamo fatto, ma le rinviamo ovviamente magari a qualche altra riflessione. Lascio la parola ad Umberto e quindi vi ringrazio. Buongiorno a tutti, cerco di fare qualche considerazione di carattere generale. Oggi ci occupiamo prevalentemente del settore gomma del gruppo EAV AIR, però ho chiesto già al Presidente De Luca e al Consigliere Cascone di fare a breve una nuova conferenza stampa sul tema degli investimenti, perché il tema degli investimenti con i cantieri che abbiamo aperto e con quelli che stiamo per aprire grazie ai fondi del PNR è diventato davvero un tema importantissimo, sia in termini qualitativi che quantitativi. Noi abbiamo oggi circa 35 cantieri aperti, che diventeranno 50 nel giro dei prossimi sei mesi, e abbiamo investimenti programmati per un ordine di grandezza che oramai si aggira sui 4 miliardi. Di questi 4 miliardi, due sono antecedenti, riguardano la chiusura dell'anello della metropolitana, il raddoppio di parte della cumana, il raddoppio di parte della circonflegrea, il raddoppio di parte della circonflesuviana, la linea 7, che sarebbe l'anello che congiunge la cumana e la circonflegrea, e poi ci sono aggiunti il miliardo dei fondi PNR che riguardano tanti interventi, ma uno in particolare sul quale appunto poi credo che sarà opportuno fare una riflessione specifica, che è quello degli interventi sulla circonflesuviana, su tutto il segnalamento della circonflesuviana e in particolare sul tratto che va da Castellammare a Storrento, sul quale abbiamo tante sollecitazioni e sui quali abbiamo avuto un finanziamento di 300 milioni, che stiamo portando avanti con un dialogo competitivo, che è una nuova forma di gara, di cui vi diremo nella conferenza stampa specifica che faremo di qui, credo a massimo un paio di settimane, e che credo che sia davvero una cosa importante. Questo si aggiunge anche alla nuova linea metropolitana che da a fragola alta velocità arriverà a Piazza Cavour, che è un'idea, un progetto a Camica Regione Campania, portato poi avanti come soggetto che ha chiesto il finanziamento dal Comune di Napoli e che prevede come soggetto attuatore dell'investimento stesso EAB, dove già c'è stato un primo stanziamento di un miliardo e 300 milioni. Quindi anche su questo c'è un grande, grande lavoro da fare. Inutile dire che noi ci dobbiamo, ci stiamo cercando di rafforzare con professionalità importanti, perché gestire una massa di investimenti come questo non è uno scherzo e non nascondiamo che abbiamo difficoltà a trovare professionalità adeguate, ma comunque è una grande sfida sulla quale penso che ci sarà molto da lavorare e da spiegare e da raccontare. Veniamo alla gomma. Alla gomma, ho già detto Luca, ma forse è il caso di ribadirlo, che c'è un dato che non è un dato della Regione Campania, è un dato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, che riconosce la Campania come una delle regioni più virtuose in termini di età media dei bus circolanti, che è passata in Campania da 17 anni, quattro anni fa, a nove anni. Questo semplicemente grazie a una cosa, ai 700 nuovi pullman, che la Regione Campania ha messo a disposizione non di EAV o di AIR, ma di tutte le aziende di trasporto della Regione Campania, compreso ANM, CTP e via dicendo. Quindi, un dato molto significativo, da 17 anni di età media dei bus in circolazione siamo passati a nove anni, EAV otto anni e mezzo per la verità. Ma insomma, il dato è quello. Non solo, ma il 74% dei mezzi che circolano sono da Euro 4 ad Euro 6 e anche questo è un dato che è tra i migliori che registra il Ministero tra le varie regioni della Campania. qualche numero. La Regione Campania ha messo a disposizione dei finanziamenti specifici per cercare di fronteggiare la questione di CTP. Quali sono? 3,5 milioni per incentivi all'esodo e 15 milioni per acquisto di pullman. Perché, come è stato già detto da Luca Cascone, i pullman che servono per fare il servizio della ex CTP sono almeno 200 e i pullman che invece si vengono riconsegnati da CTP perché di proprietà della Regione Campania sono soltanto 45. Quindi abbiamo fatto delle manifestazioni di interesse, EAV ed AIR insieme, per acquisto e per noleggio, perché ovviamente con questa somma noi potremo prevalentemente acquistare pullman usati, cercheremo di trovare un usato garantito, come si dice, ma sempre usati saranno, in attesa di poter attingere ai nuovi fondi, perché la Regione ha messo in campo nuove risorse per acquistare altri 500 pullman che si aggiungono agli 800 che sono stati già consegnati. Grazie a tutto questo, EAV ed AIR hanno potuto conservare o creare posti di lavoro per 2.300 persone. Come vesce fuori questo numero di 2.300? Mille sono le assunzioni dirette che ha fatto EAV ed AIR negli ultimi tre anni, quindi a prescindere da CTP, CLP e tutte queste aziende bonoturisti sulle quali siamo dovuti intervenire per soccorrere. Mille assunzioni dirette. A queste mille assunzioni dirette se ne aggiungono mille per poter conservare il posto di lavoro a CLP, dove è intervenuta AIR, a CTP i 450 lavoratori di cui ci stiamo preoccupando in questi giorni per poter dare un opportuno sbocco lavorativo. e non finisce qua perché a questi mille più mille che fa 2.000 noi abbiamo un progetto di nuove assunzioni per 300 unità tra EAV ed AIR che speriamo, confidiamo di realizzare nel corso dell'anno 2022, quindi arriviamo a 2.300. Io non ho una polemica Luca ma ho una precisazione però la devo fare sulla questione di CTP perché la proposta che c'era stata fatta il presidente De Luca sulla CTP per salvare la CTP era una proposta di questo tipo. Ma perché EAV non si fitta il ramo di aziende a CTP a 0 euro? Quindi prendi il ramo di aziende del CTP e te lo fitti a 0 euro. Così come con tutti i lavoratori, con i depositi, con i pullman. Noi abbiamo detto no, ma per la verità non è che abbiamo detto no soltanto noi, perché ha detto no anche ANM e ha detto no anche qualcun altro che era stato interpellato. Ma si è lavorato su questo progetto fantasioso, insidioso, assurdo per un anno, perdendo tempo prezioso. Perché no? Per due motivi. Uno perché non c'è e non ci deve essere e non ci può essere nessuna continuità tra la ex entità legale CTP CTP, EDA e DAER. C'è un punto fermo, c'è un licenziamento e si vengono riassunti. Questo per due motivi. Prima perché noi vogliamo fare una cosa diversa, non è che vogliamo prendere quella che era il CTP e portarla in EAV. Noi vogliamo cercare di dare un'organizzazione diversa, uno stile diverso, insomma abbiamo delle idee un po' diverse. Secondo, e forse anche più importante, perché se poi noi facevamo questo fitto di azienda e CTP falliva comunque, saremmo stati chiamati in causa per i debiti di CTP. Quindi una follia alla quale abbiamo detto no. Ovviamente questa operazione che stiamo facendo è un'operazione che io sono molto contento di riuscire a realizzare grazie all'intervento della Regione, insieme ad AIR, sul quale i collaboratori, i dirigenti della Regione davvero hanno fatto un lavoro massacrante. Non vi voglio raccontare a che ora iniziano i WhatsApp di Luca Cascone la mattina alle 6 e durano fino alla sera alle 11. Ma ovviamente siamo molto consapevoli delle difficoltà di questa operazione. Non è che la facciamo a cuor leggero, non è una vittoria per nessuno. È un'operazione complicata in sé, resa particolarmente complicata dal momento storico che stiamo attraversando. Perché nessuno si deve nascondere, io questo lo dico in ogni occasione e voglio ripeterlo anche qua, che tutte le aziende del trasporto stanno attraversando un momento difficile per essere eufemistici. Perché? Prima il Covid, che ci ha fatto abbattere i ricavi da traffico del 50%. E quindi, per dare un numero, EAV e AIR insieme hanno perso in due anni 60 milioni di ricavi da traffico. Poi la guerra della Ucraina, che per quanto ci riguarda ha comportato due effetti. Il costo dell'energia, che è aumentato del 100%, e per EAV significa che ogni mese io anziché pagare un milione di energia ne pago oggi un milione e otto. Da un milione a un milione e otto al mese. Nonché il costo del carburante, che come sapete è aumentato del 30%. Tutto ciò, il crollo dei ricavi da traffico, che soltanto nelle ultime settimane vede finalmente una ripresa significativa, e il rincaro delle materie prime e dell'inflazione in generale, oggettivamente sta creando non pochi problemi all'equilibrio finanziario di tutte le aziende di trasporto e quindi anche delle nostre aziende di trasporto. Un'altra cosa, voglio dire, sui laboratori di ex CTP, che credo che a partire dai primissimi di maggio entreranno nei nostri servizi, che svolgeranno al 51% EAV nella città metropolitana di Napoli e al 49% AIR nella provincia di Caserta. Noi abbiamo fatto tante riunioni con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per la loro collaborazione e anche per il senso di responsabilità che hanno dimostrato in questo frangente, e abbiamo detto una cosa molto importante. Abbiamo detto, perché come vi abbiamo raccontato, noi partiamo con un servizio limitato perché abbiamo 45 pullman e quindi nei primi giorni di maggio, nelle prime settimane, non riusciremo a far lavorare tutti i 450 lavoratori in maniera efficace, diciamo in maniera produttiva. Ma abbiamo detto che per prendere uno stipendio tutti devono lavorare. Non esiste che uno sta senza fare niente e prende lo stipendio. Questo è un principio che abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali. E cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che mano a mano che arriveranno i pullman, noi utilizzeremo i dipendenti che in quel momento sono in esubero rispetto alle esigenze dei 45 pullman per fare o il secondo agente a bordo pullman dei pullman di CTP, quindi il biettaio. Visto che lì c'è anche un problema storico di carenza di ricavi di traffico perché diciamo che il tessuto non è proprio di quelli più semplici nel quale si opera. Quindi il tasso di evasione che da noi è sempre molto alto, lì forse è particolarmente alto. Quindi prima cosa sui pullman di CTP che usciranno ci sarà l'autista e colui il quale a bordo treno, a bordo pullman in questo caso farà i biglietti. E quindi viene impiegato in questo modo. Oppure farà i biglietti sui pullman di EAV, di AER, farà il controllore da qualche parte anche nelle restazioni dell'EVA ma deve lavorare. Non ci sarà nessuno che non lavorerà. Poi abbiamo una criticità che conosciamo tutti, che l'azienda che ci viene consegnata, non l'azienda, i lavoratori che noi stiamo riassorbendo come stanno bene le organizzazioni sindacali, hanno un rapporto tra diretti e indiretti, cioè tra coloro che guidano i pullman e coloro i quali fanno un'attività complementare, cioè diciamo non in prima linea, di due su tre, cioè due sono autisti e uno, forse anche di più, e uno è un indiretto. Questa cosa non si regge perché il rapporto non è un rapporto sostenibile e quindi stiamo lavorando sulle riqualificazioni. Ci saranno alcuni amministrativi che possono fare gli amministrativi nelle piante organiche che abbiamo individuato, servono delle figure ma ci saranno molti che dovranno andare a fare gli autisti, i controllori, un'altra attività. È un momento doloroso questo sotto certi aspetti ma dobbiamo fare un'operazione che abbia una sostenibilità finanziaria nel tempo, non nei primi mesi, nei prossimi anni, in attesa ovviamente delle gare. Qui e poi chiudo, scusatemi se mi sono dilungato, ultimo passaggio sulla riorganizzazione societaria che come sapete prevede che dalle attuali tre entità legali che sono di proprietà della regione Campania avremo una riorganizzazione che risponde a una normativa di legge che impone la separazione della rete ferroviaria dal trasporto ferroviario. Per intenderci RFI e Trenitalia, avremo RFI Eav e Trenitalia Eav e avremo poi l'azienda della gomma che sarà la Air Campania nella quale confluirà anche il ramo di azienda della gomma di Air, quindi una holding che farà i nuovi investimenti e vi ho detto di che importo parliamo e di che problematiche comporta, che controlla tre società, rete ferroviaria, trasporto ferroviario e metropolitano e quindi poi l'azienda della gomma. Questo è un po' il quadro, credo di aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa poi mi dite e passo la parola all'amministratore di Air Campania, Anthony. Buongiorno a tutti, io sarò velocissimo per dare poi spazio al Presidente di fare una disamina un po' più compiuta. Ma io credo che la chiave di volta per interpretare un nuovo modello gestionale nel settore del trasporto pubblico possa essere riassunto in una sola parola, responsabilità, che in soldoni significa che ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve ottemperare al proprio compito senza deviare. C'è un'espressione che usano i francesi che a me piace molto, de tourne man de pouvoir, che significa? Significa che mentre io perseguo un obiettivo poi ne raggiungo un altro e quindi ho deviato. La politica, i sindacati, i lavoratori, ognuno deve fare la sua parte. Il Presidente De Luca ci ha consegnato questo messaggio, semplice ma allo stesso tempo dirompente, di discontinuità. La politica deve occuparsi dei grandi temi, delle strategie, ma non deve costruire il consenso elettorale sui favori né sulle inefficienze. Non deve coprire nessuno, non deve tutelare lo status quo, non deve fare clientela. I sindacati che sono qui presenti devono tutelare sicuramente i lavoratori, ma come devono farlo? Non diventando un alibi per il disimpegno né tantomeno creare sacche di inefficienza. Un sindacato responsabile, così come lo è stato nel corso di questo anno, nelle varie vertenze che ci sono state nel settore dei trasporti. Infine i lavoratori. I lavoratori, come diceva giustamente sia Luca che Umberto, non devono pensare che in ogni caso e comunque garantiamo lo stipendio a fine mese senza un impegno concreto. Devono lavorare responsabilmente, devono lavorare con impegno, pensando che la nuova società, le nuove società Aire e Deav, siano una cosa loro. Devono farlo per tre ragioni. Uno, perché lo fanno per se stessi. Due, lo fanno per le società. Tre, perché offriamo un servizio di trasporto pubblico locale ai cittadini. Io capisco lo stato d'animo dei dipendenti che vengono da CTP, però io vorrei consegnare a loro un messaggio. Arrivano in due società e devono sentirsi orgogliosi di appartenere a due società che sono efficienti, competitive e sane. Questo è il mio senso di responsabilità. Ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve fare ciò che deve fare e non quello che in qualche modo vorrebbe fare. E soltanto in questo modo si innesca un meccanismo virtuoso che fa sì che la responsabilità diventi efficienza e l'efficienza diventi soddisfazione del fabbisogno del cittadino. Air Campania è una società giovane, l'anno scorso aveva soltanto 350 dipendenti, una delle società virtuose nel settore del trasporto pubblico locale su gomma. Sono stati assunti l'estate scorse i 416 lavoratori di CLP, i 54 di Buono Tourist Sky, due di una piccola società di Benevento, Iorio, che per diverse ragioni hanno cessato l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale su gomma. Ma la cosa più importante, che mi riempio di orgoglio, è che abbiamo fatto assunzioni per 276 unità ex novo. Giovani assunti nel corso dell'ultimo anno, gli ultimi 30 prenderanno servizio nel mese di maggio, ben 276. A questi si aggiungeranno i 220 che in quota parte ci siamo divisi un po' i compiti tra AIR ed EAV, assumeremo nei prossimi giorni. E infine, a valle di questo progetto di incentivo all'esodo che ha fortemente voluto il Presidente Cascone e l'assessore Marchiello, che ha raccolto il consenso unanime della Giunta guidata dal Presidente De Luca, dicevo, a valle di questo processo di incentivo all'esodo, quindi si attiverà anche un nuovo meccanismo di turnover ed AIR immagina di fare entro l'anno 120 nuove assunzioni di operatori di esercizio. Ancora numeri, velocissimamente mi avvio a concludere. AIR Campania lo scorso anno eserciva l'attività su 11 milioni di chilometri, siamo arrivati a circa 29 milioni di chilometri, il parco mezzi da 350 arriverà a circa 750. Nei giorni scorsi, come ha detto Umberto, abbiamo completato questa gara per acquistare 250 autobus pronti all'uso, tutti Euro 5 ed Euro 6, e in più stiamo facendo investimenti importanti, chiaramente i 250 li acquistiamo con i fondi della Regione, con i 15 milioni che sono stati ricordati anche da Cascone, e in più stiamo facendo investimenti importanti per decine di milioni di euro, sempre contributi regionali, per costruire il nostro nuovo quartiere generale e per realizzare delle autostazioni. L'ultima l'abbiamo inaugurata alla presenza del governatore qualche settimana fa a Grotta Minarda. Ecco, questi sono i numeri con cui AIR Campania si candida a diventare nel progetto che ha immaginato la Regione, cioè questo progetto ad integrazione verticale che prevede appunto una holding controllata al 100% dalla Regione Campania, che nascerà dalla fusione tra EAV ed AIR SPA, che è la nostra patrimoniale, e le tre società controllate, due per il ferro di nuova Costituzione ed AIR Campania. Ecco, questi sono i numeri per cui, a valle della fusione e a valle del conferimento del ramo d'azienda della gomma di EAV in AIR Campania, AIR Campania diventerà il player della Regione del trasporto pubblico locale su gomma. Grazie. Come potete vedere è un quadro molto importante, quello che presentiamo questa mattina, a cui farà seguito poi da qui a qualche giorno anche un'iniziativa specifica sui cantieri che apriamo. Diciamo in estrema sintesi. L'impegno della Regione nel campo del trasporto vede l'acquisto di 200 treni, di cui 60 già consegnati, di 1.300 autobus, di cui 800 già consegnati, l'assunzione di 2.300 e più dipendenti, di cui oltre 1.200 già effettuati, con iniziative specifiche di EAV e AIR. Cantieri che partono per 4 miliardi di euro, fra questi 35 cantieri sono già aperti. Abbiamo cioè lavorato in maniera estremamente determinata, con l'impegno prioritario ovviamente dei dirigenti delle aziende, del collega Cascone, dei colleghi di Acamir che hanno fatto un lavoro davvero eccezionale. stiamo lavorando per fare del comparto trasporto-mobilità della Regione Campania uno dei comparti più avanzati d'Italia. Nella cronaca, se volevo dire una polemma, nella cronaca che in genere facciamo nel dibattito del Consiglio regionale, noi rileviamo un dato che è sintetico. Precedente governo regionale, autobus acquistati, zero. Treni acquistati, zero. Cantieri bloccati, 35. Tutti. Vi ripeto le cifre di sintesi. 200 treni nuovi acquistati, rispetto a zero, di cui 60 consegnati. 1300 autobus nuovi, di cui 800 consegnati. 2300 nuove assunzioni, di cui 1200-1300 già fatte. investimenti per 4 miliardi di euro e 35 cantieri aperti. Tutti i cantieri che erano bloccati sulle linee Eav. L'ultimo cantiere che sblocchiamo, dopo dieci anni di contenzioso con le imprese, è il cantiere di Baia. Completiamo con Baia tutti i cantieri che erano bloccati. Un lavoro, anche uno sforzo amministrativo, oltre che tecnico, enorme. Questo lavoro ha consentito di difendere le industrie produttrici di autobus e di treni della regione Campania, Firema Industria Italiana Autobus ad Apellino, che hanno beneficiato di questa domanda della regione. hanno consentito di tutelare il personale delle aziende andate in crisi. L'AIR ha già assorbito l'azienda di Caserta, il CTP, come si chiama? Un'altra azienda dell'agrosannese Ocerino. A Napoli concludiamo l'operazione CTP per il fallimento dell'azienda. e di offrire una qualità del servizio ai nostri concittadini di ottimo livello. Da questo punto di vista il dato che è stato fornito, passiamo da un'anzianità dei nostri mezzi di 17 anni a un'anzianità di 8 anni e mezzo per l'EA, ma 9,1 di tutto il comparto. È veramente un dato straordinario. Abbiamo ancora problemi a volte sulle linee perché ci sono tecnologie arretrate, ci sono sistemi di controllo che vanno migliorati, ovviamente ci sono investimenti enormi in corso. Ci sono cantieri decisivi previsti per quanto riguarda il ferro, acquisito un finanziamento di un miliardo e due per la bretella di collegamento a Fragola, stazione centrale di Napoli, per cui la Regione ha finanziato il progetto che è in corso di redazione. Un problema storico che riguarda la linea Castellammare-Sorrento. Su un altro versante, quello autostradale-stradale, una bretella di collegamento fra costiera-acilentana e autostrada all'altezza dei contursi, un lavoro analogo di collegamento nel casertano fra l'itorale Domizio e l'autostrada. insomma, si sta facendo, credo, un lavoro gigantesco che non ha paragone con nessun'altra realtà d'Italia. Voi che siete uomini di mondo potete parlare con i vostri colleghi di altre parti d'Italia, con le ferrovie dello Stato, con Trenitalia, con Bus Italia per avere la conferma di quello che vi sto dicendo. E tutto questo ovviamente avendo dovuto pagare in modo particolare per quanto riguarda le ferrovie dello Stato appena ci siamo insediati la volta scorsa credo di ricordare un 200 o 750 milioni di euro di debiti che avevamo arretrati. Me lo ricordo perché fu un momento molto bello di incontro con le ferrovie dello Stato eravamo all'inizio del lavoro e ovviamente io cominciavo a chiedere ma gli impegni a Regione mi ascoltavano i dirigenti con grande interesse alla fine tutto questo è molto bello e dice solo una domanda ma quanto ci pagate? Con quanto vi pagate? Dice veramente se avete tre anni di arretrati sono circa 200 milioni e noi pure un'azienda siamo pure figli di Dio siamo pure quelle ferrovie Stato fanno i conti con i bilanci e quindi con una santa pazienza ci siamo messi con il nostro valoroso eroico assessore al bilancio a trovare 200 milioni di euro allora quando le premesse le fesserie le scemenze o è l'età o è la mitridizzazione io non le sento proprio più queste cose stiamo facendo un lavoro gigantesco che non ha paragone con nessun'altra realtà d'Italia e per questo ovviamente ho il dovere di ringraziare i nostri collaboratori i responsabili delle aziende Acamir tutti quelli che ci hanno dato una mano sostanziale ad affrontare il problema ora noi avevamo detto che puntiamo a fare un'azienda regionale del trasporto mezze misure non ci servono dobbiamo avere cose organizzate serie stabili devo dire che fra quelli che hanno in qualche modo non dico frenato ma chiesto a tutti i nostri di fare bene i conti c'è chi vi sta parlando nel senso che abbiamo buttato il sangue per risanare l'EAP l'AER assorbita veniamo da due anni di entrate molto precarie veniamo da un aumento dei costi dell'energia che ci aggravano le bollette di praticamente due milioni di euro al mese era doveroso andare con i piedi di piombo allora noi abbiamo assunto un impegno qualche mese fa con alcune aziende che erano in una situazione drammatica cominciare ripeto dal CTP noi lavoreremo con voi nell'ambito dell'obiettivo di costituzione di un'azienda regionale del trasporto ma lo ripeto perché sia chiaro anche oggi le nostre aziende fanno i conti con i bilanci e se vogliamo garantire la continuità del lavoro lo dico agli amici del sindacato noi dobbiamo avere bilanci in ordine noi non siamo interessati a fare operazioni di immagine non ci fanno né caldo né freddo noi siamo interessati a due obiettivi garantire il lavoro soprattutto oggi garantire il lavoro e dare ai nostri concittadini un servizio di qualità perché non possiamo avere un trasporto pubblico locale con carri bestiani questo è quello che stiamo facendo con estremo rigore con estremo impegno quindi anche la vicenda del CTP l'abbiamo affrontata con questo spirito avevamo assunto un impegno lo abbiamo mantenuto come sempre in maniera seria non vi abbiamo risciato il pelo abbiamo detto qui si lavora non ci saranno stipendi dati a chi non lavora qui si lavora e si produce ed è un modo per stare tranquilli poi per quanto riguarda il lavoro perché di questi tempi avere un posto di lavoro garantito in un'azienda efficiente è un quasi miracolo ora noi qui dovremo affrontare un problema poi rimane fuori un'altra azienda ovviamente di proprietà 100% comune di Napoli avremo un modo poi di sentirci le prossime settimane adesso avevamo un'emergenza c'è l'azienda che era fallita era era già fallita prima per la verità abbiamo perso un anno di tempo presso altre scemenze allora noi assorbiamo in pratica quasi 500 dipendenti lo facciamo per scaglioni ma in giro ai pochi mesi entro il 2022 assumiamo tutti quanti c'è una parte per la verità molto limitata di lavoratori interessati al prepensionamento la regione mette a disposizione altri 7 milioni di euro per i prepensionamenti però ci serve anche alleggerire un po' la quantità il numero di dipendenti che prendiamo al limite poi programmiamo assunzioni i giovani che ci costano molto di meno per oneri sociali e magari hanno anche più freschezza insomma abbiamo assunto parecchi ragazzi parecchie ragazze è una cosa molto importante molto importante abbiamo bisogno di 200 autobus ne abbiamo 45 abbiamo hanno valutato i dirigenti ea di fare un'operazione immediata noi dobbiamo garantire il servizio perché l'area territoriale interessata è un'area vastissima e quindi credo che abbiamo intanto distribuito mi pare 7 milioni di chilometri a testa più o meno 5-5 alle due aziende ma poi è chiaro che abbiamo bisogno dei mezzi è chiaro che se partiamo oggi con una gara per mezzi nuovi se ne parla fra tre anni non possiamo avere questi tempi e quindi troveremo mezzi efficienti pienamente utilizzabili per garantire da subito il servizio contiamo per l'inizio dell'anno di entrare quasi al regime sinceramente abbiamo fatto un miracolo e siamo soltanto soddisfatti agli amici ai lavoratori che confluiscono da CTP nella nostra azienda regionale chiediamo solo di darci una mano a garantire l'efficienza del servizio e anche un sistema di relazioni sindacali non marchettaro diciamo così in termini tecnici non è che se dobbiamo fare mezz'ora è straordinario e stiamo con le pippe in mano e qui stiamo difendendo il lavoro quindi dateci una mano questo lo chiediamo a tutti i nostri dipendenti aiutateci perché non è facile soprattutto con le tecnologie di controllo sulle reti questo riguarda per la verità più il ferro garantire poi un servizio efficiente lì abbiamo bisogno ancora di fare investimenti per ammodernare le tecnologie quindi dovete veramente darci una mano ma ripeto con grande tranquillità non è che staremo la frusta starà poi non ha il fisico magari a concia è un po' più strutturato ma di Gregorio lo vedo un po' precario ma tu ne ha avuto il covid no se che mi piace che curta e malangata ma è come dire ha dimostrato una tenuta sul campo molto allora questa per noi è una giornata importante vi riconfermiamo l'impegno di fondo azienda regionale unica di trasporto articolata sul modello ferrovie rete gomma ferro efficienza del servizio rinnovamento del personale rinnovamento del parco mezzi grandi investimenti per miliardi di euro davvero abbiamo la possibilità di fare del comparto trasportistico della regione una delle eccellenze finisco ricordando che le regioni hanno due grandi capitoli di propria competenza con i quali devono misurarsi sono i due grandi servizi di civiltà di competenza delle regioni la sanità e il trasporto devo dirvi che in entrambi i campi è stato fatto un lavoro importante chiedete sempre ai vostri colleghi tu dell'ANSA avrei qualcuno anche se ho visto un tuo scivolamento sul piano delle babbarie un termine tecnico dell'agro sanese nocerino mi ricordavo che mi hai chiesto la piazza che volevi sapere la piazza la piazza la voglio bene veramente è un lavoro importante allora io esprimo veramente la mia soddisfazione rivolgo un saluto affettuoso ai dipendenti di CTP che si apprestano a venire con noi un saluto cordiale a voi alle vostre famiglie so che avete avuto anni difficili è stato un calvario soprattutto per voi per le vostre famiglie adesso ci sono alcuni stipendi a recuperare ma insomma la cosa importante era recuperare il lavoro e ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta aiutateci ripeto a mantenere i conti in ordine perché la cosa non è facile per il resto ci prepariamo ad aprire gli altri cantieri grazie a tutti